Buonasera, ben trovati in questo venerdì sera, come sempre con Andrea Ravallese, buonasera Andrea. Buonasera a tutti, siamo pronti per chiudere questa settimana al meglio con Telebari Social Night. Insomma abbiamo già una prima parte con il nostro co-conduttore Fabio Mollica, direttore di Emez in Puglia e con il veterinario Vincenzo Cicirielli. Allora, nella seconda parte avremo l'assessore Alessandro Dell'Inoci e poi nella terza parte... Un remix, tantissimi ospiti, vi dico solo, cugini di campagna. Wow, a questo punto io lancerei l'RVM di introduzione di questa prima parte. Che bastardo, lì. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 di episodi negativi che ovviamente non fanno piacere da Amta, Babari, sono stati presi di mira gli autobus, ma ci sono tanti episodi di violenza non solo nel weekend di Halloween ma anche in giro durante la settimana. Questo è un segnale in qualche modo preoccupante, lo abbiamo già detto la settimana scorsa, c'è qualcuno che ha scambiato la festa o la movida per l'occasione di fare gesti sconsiderati o violenti, credo che bisogna ripensare un po' al controllo del territorio perché soprattutto nelle ore notturne di polizia e di carabinieri a causa della mancanza di personale ce ne sono davvero pochi in giro e quindi dobbiamo fare in modo di correre ai ripari. Sì, prima era un problema di periferie ma adesso sono eventi che avvengono veramente ovunque, anche in piazza del Ferrarese, pieno centro storico della nostra città. Assolutamente, anche quel turista che è stato preso a calci in testa da un la baby gang, questo ci fa capire che la situazione non è proprio sotto controllo, però oggi cambierei argomento e parlerei con il dottor Cicirelli del mondo animale, del benessere. È passato Halloween, di botti, tutta una serie di cose. Quanto questo incide sugli animali? Quanto dispavente? Quanto fa male loro? Eh, purtroppo in botti di, ormai non sono più botti di Natale, sono in botti di Capodanno, di Halloween, dei battesimi, dei compleanni, anche se vogliamo anche un po' di cattivo gusto, sono per tutto l'anno, quindi la problematica è seria, va proprio contro quello che è il benessere animale. È contro il benessere animale degli animali selvatici, quindi abbiamo proprio mortalità degli animali selvatici durante queste occasioni, è contro quello che è il benessere animale degli animali domestici, cani, gatti, più cani, sono spaventati da questi botti, quindi ricorriamo agli integratori per calmarli, a delle metodiche per farli stare più tranquilli, però gli animali si aggiano davvero tanto, quindi lo stress fa male agli animali e quindi non possiamo in qualche modo cercare di proteggerli da questo, ma bisogna cercare di in qualche modo di risolvere il problema in qualche modo andando a arginare questa moda dei botti di Capodanno o di Natale o quello che vogliamo. Quali sono i metodi anche, si può dare qualcosa per far vivere gli animali bene partendo dal cibo a anche uno stile di vita che possa renderli tranquilli? Allora in generale ci sono degli integratori che funzionano bene, però la risposta all'integratore è soggettiva, cioè l'animale risponde in maniera soggettiva a questo. Allora io credo che l'essere umano del proprietario dell'animale debba in qualche modo arginare il problema con delle tecniche, ad esempio durante i fuochi d'artificio è buona norma alzare il volume della tv, chiudere le tapparelle, stare vicino al proprio animale, quindi non lasciarlo da solo, coccolarlo in qualche maniera, farlo sentire al sicuro e questo è quello che possiamo fare per i nostri amici a quattro zampe, quindi l'animale è bello tutti i giorni ma soprattutto nelle occasioni in cui sono spaventati e stressati. Se questo non basta io direi di ricorrere all'intervento del veterinario con l'utilizzo a volte di integratori ma a volte di veri e propri farmaci e farli stare più tranquilli perché il botto di Capodanno può essere un vero pericolo. Voi immaginate che a volte durante queste occasioni gli animali fuggono di casa, corrono per la strada e possono essere anche un pericolo per l'uomo, infatti gli animali possono essere investiti o possono provocare incidenti, quindi in qualche modo non siamo solo responsabili del nostro pet, noi siamo responsabili un po' anche di quello che avviene intorno al nostro animale. E questo assolutamente. Andrea? No, volevo andare dal direttore di Amazing Puglia, parlavamo un po' di tutela delle nostre strade, della nostra società, che spazio ha nella tutela degli animali invece? Guarda, a noi di Amazing Puglia è un tema molto caro perché essendo proprietario, proprietario insomma, ho una labrador che ogni giorno ha paura dei fuochi d'artificio, cerchiamo di raccontare questo amore tra cani e padroni, intervistando i pugliesi che hanno dei cani e devo dire una rubrica che ha molto successo perché sono molto seguite e tanta gente vuole mettersi in mostra, vuole farsi fotografare col suo cane, c'è davvero un rapporto affettivo e di amore che va veramente oltre quello che è il rapporto così... Anche non solo con il cane e con il gatto, abbiamo un articolo di telebari.it che parla di un ritrovamento, di un tasso che ha riscosso un ottimo successo perché l'affetto delle persone è verso qualunque animale. Al dottore chiederei qual è il metodo di intervento in queste situazioni qualora dovessimo trovare degli animali in difficoltà. Allora, su questo bisogna fare un po' di chiarezza, nel senso che noi da cittadini possiamo fare poco in queste occasioni. Dobbiamo sicuramente chiamare i vigili la ASL che ci può aiutare in qualche maniera e tenere l'animale selvatico in quel momento al riparo da quelli che possono essere i pericoli della strada, però comunque attendere l'aiuto dei soccorsi. In questo caso se l'animale è ferito interverrà la ASL, quindi il medico veterinario ASL di turno o comunque i vigili urmani ci daranno un ausilio in questi casi. Allora, tornando un attimo al discorso fuochi di artificio, ho visto dei lavori fatti con i droni che sono molto belli e possono in qualche modo rendere degli spettacoli ancora più belli in cielo rispetto ai fuochi di artificio senza spaventare gli animali. Beh, certo, assolutamente. Questo è giusto che è un dibattito oggi importante, è aperto perché comunque vediamo che ci sono tantissime persone che oggi adottano gli animali e che comunque l'amore per gli animali è sempre di più, diciamo, è sempre più nell'area, ecco. Sempre più forte. Dottore, per quanto riguarda invece l'alimentazione, cosa consiglia a tutti i proprietari degli animali, su che cibo o quale alimentazione un cane, un gatto, qualsiasi animale debba avere? Allora, io credo che ogni tipo di scelta in questo senso debba essere in qualche modo ad animale, cioè ogni animale ha le proprie preferenze, le proprie patologie e quindi bisogna innanzitutto decidere se fare un tipo di dieta casalinga oppure commerciale. Certo, la commerciale è un po' più comoda, comprare le crocchette ai cani è comodissimo, però a volte questo tipo di alimentazione può creare dei problemi. Oppure, se si ha un po' più di tempo, un po' più di pazienza, è un'alimentazione casalinga. Quindi comprare gli ingredienti che possono servire sotto dieta, sotto dieta veterinaria al proprio animale e impostare una dieta che sia sicuramente completa e ricca di ogni elemento che possa servire al nostro animale. Certo, la cosa importante è farsi seguire da un medico veterano alimentarista perché le carenze alimentari possono essere un vero problema per gli animali, quindi anche se la dieta commerciale in qualche modo è bilanciata, la dieta casalinga deve essere bilanciata da uno specialista che può aiutare il proprietario sempre nel tema del benessere animale. Abbiamo pochi secondi, posso fare delle domande bruciapelo? Sì. Allora, c'è stato, torno sulle teppagini di telebari.it, una giornata organizzata al Parco 2 Giugno, quindi proprio qui vicino, di addestramento, aperto a un largo numero di cani. È consigliato un'attività del genere o è meglio farlo un tet-a-tet? Allora, in generale è consigliato l'addestramento, cioè l'esperto che può aiutare l'animale o in gruppo se non ci sono grossi problemi, o singolarmente se ci sono qualche patologia comportamentale, è sempre consigliato. Noi lavoriamo spesso con gli addestratori in sinergia con loro e quindi possiamo in qualche maniera proteggere l'animale da tutti gli eventi stressanti anche in caso di fuochi, botti di capodanno, per in qualche maniera arginare il problema e rendere l'animale più tranquillo. A questo punto io ringrazio il veterinario Vincenzo Ciccirelli per essere stato qui con noi, qualche minuto di pubblicità e ritorneremo con Fabio ad intervistare l'assessore Alessandro Delle Noci per capire tutto quello che accadrà nel 2024 nel suo assessorato sui bambi e sulle strategie. A fra poco! Grazie!